I ricordi corrono veloce a quel pomeriggio di mezza estate, era il 2006, sembra una vita fa ma otto anni dopo c'è ancora chi sogna con lo stesso traguardo, quello stesso obiettivo Kick-off, è iniziata Frosinone-Grosseto Palla dentro per Ciofani, che può metterla di prima intenzione, arriva il cross dentro Daniel Ciofani, porta in vantaggio il Frosinone sull'assist di Matteo Un gran pallone per Matteo Ciofani, che può andare al cross Palla dentro di Matteo sul secondo palo per Daniel, che riesce a staccare Marotta ha dato un cazzotto a Bertoncini, qui Resi-back è rosso, rosso per Marotta Pallone per Giovio, Giovio al limite dell'aria, Giovio calcia, mangia velo, vola Lo prova Robert Un gol straordinario di Robert Cooker Frosinone 2, Grosseto 0 Quello con Terigi, e qui secondo Giallo ci sa tutto E questa volta non se lo può scampare Grosseto che chiude il 9 Palla dentro per Curiale, 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 Curiale Sono tante partiere, Curiale, Curiale Davis Curiale, 3-0, Frosinone Ancora, Davis Curiale, sono 9 in campionato Ginita al Matusa, Rosinone batte Grosseto, 3-0 ito